Seguite su Instagram questa top player Puoi dichiarci su Instagram? Ciao, mi chiamo Greta Bagnoli, con due i Con due i In che squadra gioca? In che squadra gioca? Ma devo farla per forza Ho giocato lì da Valle di Bologna Serie B2 Dopo vado a Vignola Domani mattina Non lo so Devo ancora rivedere i miei obiettivi No basta, hai guardato No, no Perché hai attaccato il palo? Ciao ragazzi Sono Gabriele Giovannini Con il trattino in mezzo Con il trattino in mezzo Vedi qua, dai Che mi stai a vedere Quindi? Serie giocata? Serie giocata? Sì, però quest'altro anno faccio la V2 Ruolo, ruolo Ruolo, banda Età? Edà, 16 Ok, tagliamo questa parte Cosa si aspetta da questa partita? Da questa partita? Sì È il meglio, come sempre, ragazzi Copplayer Seguitela, seguitela Oh, do you believe that guy? E' il meglio, come sempre, ragazzi E' il meglio, ragazzi E' il meglio, ragazzi Ech grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti